ci avete conosciuto qui su youtube ma per essere liberi abbiamo costruito una nostra piattaforma senza censura e controllo due anni di lavoro cinque tecnici coinvolti ogni giorno uno staff di 14 persone questa è in zion un posto creato per godere di contenuti video evolutivi selezionati per te contenuti che youtube non pubblicherebbe mai su in zion tutto più facile ai disponibili i video recenti pubblicati su youtube immediato accesso ai nostri corsi creati da autori d'eccezione puoi consultare leggere gli articoli del blog guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi e di corsi iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto tu pensi di guardare quello che vuoi su youtube mentre guardi quello che vuole youtube in zion dopo che la guardata sei migliore ciao raga buongiorno questa mattina parleremo del senso di missione della missione che ci riguarda è un trucchettino molto molto importante quanto meno un errore che noi commettiamo quando siamo alla ricerca della nostra missione perché quando una persona rileva la sua missione praticamente è invincibile credetemi eccoci raga buongiorno 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 questa mattina con noi la bellissima schissima simpaticissima vivacissima una toscana doc signore e signori non senza emozione illaria paulicchi buongiorno buongiorno luca buongiorno a tutti buongiorno allora ilaria per chi non lo sapete tu di che cosa ti occupi allora io sono una coach umanista mi occupo di allenare la mente per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che le persone si pongono nella propria vita soprattutto vabbè per capire quali obiettivi porsi perché spesso gli obiettivi nascono da problemi che abbiamo non abbiamo chiari quali sui nostri obiettivi abbiamo dei problemi poi capiamo come poterli risolvere quindi ci fissiamo degli obiettivi ti occupi anche di allenamento fisico no un pochino sì volendo ma quello a livello diciamo più amatoriale perché sono una sportiva veramente fisica è fondamentale tra l'altro sto facendo una rubrica sulle mie mie cagini social proprio dedicata all'importanza dell'attività fisica come cura di sé come si chiama il tuo profilo allora su facebook il area paulicchi come il mio nome invece su instagram è il area trattino paulicchi coach ecco perfetto il area che da settembre inizierà a presentare quindi sarà in affiancamento alla nostra grande valeria e quindi si occuperà di presentare i nostri autori fare interviste avrà anche una rubrica sua personale dove parlerà darà proprio delle piccole pilota dei piccoli suggerimenti su come comportarsi come ottimizzare il proprio impegno nella vita quindi grazie anche per questo allora gentilmente potremmo parlare dei corsi che sono che abbiamo a giro in tutta italia per favore grazie mille allora partiamo con 11 settembre dalle 17 alle 20 andrea pietrangeli frascati sticazzi 11 settembre davide cristallo lavorare su se stessi con esercizi a sanremo 11 settembre luca nali pillola rossa con i salvetti 17 settembre luca nali campane campane tibetane a frascati 17 settembre massimo bianchi la trappola uscire dalla matrix a sanremo 18 settembre luca nali transurfing frascati 24 settembre massimo bianchi la grazia il femminile a monza 25 settembre sempre dalle 17 alle 20 andrea pietrangeli sanremo sticazzi 25 settembre luca nali campane tibetane a monta 25 settembre davide cristallo lavorare su di se stessi su se stessi con esercizi a ottobre il primo di ottobre dalle 17 alle 20 gabriele san nino l'amore un giorno alla volta a sanremo 8 ottobre luca nali campane tibetane a bolzano 8 ottobre massimo bianchi l'anelito e l'intuizione a frascati 9 ottobre luca nali transurfing a bolzano 9 ottobre monica clementi numerologia ad udine al primo basta ok 9 ottobre 17 20 andrea andrea pietrangeli a monza 15 ottobre massimo bianchi la grazia e l'anelito del femminile a udine ecco grazie grazie mille ila allora per le persone che sono interessate possono mandare una mail a luca punto nali chiocciola in zion punto com oppure andare nella nostra piattaforma a dare una sbirciata allora intanto vi dico una cosa veramente molto importante cioè che per quanto riguarda la piattaforma in golden memory ho messo sto caricando dei contenuti che sono da paura a golden memory basta andare nella piattaforma scorriamo vediamo adesso l'aperta tutta così la potete vedere e ci sono dei video che sono poderosi cioè dopo aver visto questi contenuti hanno proprio si amplia la mente quindi vi prego proprio di andare a dare un'occhiata ne vale assolutamente la pena perché sono dei contenuti proprio potenzianti lo scelte per questo perché quando noi attingiamo a dei contenuti che ci danno una sorta di nutrimento a quel punto noi siamo delle persone migliori ecco questa è una cosa importante perché altrimenti se non si continua si continua a sporcare la nostra energia con che ne so informazioni talvolta anche preoccupanti senza che questi abbiano poi un minimo di fondamento è molto molto importante ragazzi ricordo perché capite vi sto parlando anche dal punto di vista del terapeuta a me ma arrivano delle persone in ginocchio per notizie che non sono assolutamente fondate che ne so io il maggior flusso di persone mi arrivava disperate perché comunque qualcuno aveva detto che sarebbero state messe nei container ok come avete visto nessuno è andato nei container e però la sofferenza è rimasta è anche la preoccupazione quindi facciamo molta attenzione l'energia va dove si concentra l'attenzione noi portiamo la nostra attenzione verso le buone notizie con questo non vuol dire essere beoti e pensare che ne so io che dragon ball sia un benefattore no come alcuni credano è importante avere gli occhi aperti ma non preoccuparsi e non facciarsi la testa prima di essersela pronta bene tesoro allora tu questa è la domanda che faccio a tutti la e tu l'hai letta la professione celestino no però ho visto il film prima mi ero messa ad ascoltare l'audiolibro che però poi è stato tolto quindi sono rimasta ho detto no te lo faccio bene grazie lo posso far avere però posso far avere me lo me lo ricordi tesoro perché ora appena poi con il titolo della live inizierò a entrare nel mondo mi passa tu mi mandi un messaggino e te lo mando perfetto proprio completo come no ci sono delle parti no purtroppo noi l'hai ragione ci sono delle parti che sono state tolte no per ragioni francamente che posso subito dorare però non sapere e no è assolutamente l'audiolibro il libro è decisamente completo allora leggiamo la settima illuminazione grazie la parte più lunga allora la parte più lunga allora lasciarsi trascinare dalla corrente conoscere le nostre la nostra missione personale aumenta il numero di coincidenze misteriose che ci guidano verso il nostro destino all'inizio dobbiamo rispondere a una domanda poi sogni fantasticherie e intuizioni ci porteranno le risposte che di solito vengono fornite in modo sincronico dalla saggezza di un altro essere perfetto grazie mi leggiamo anche la parte la sintesi quella che è riportata anche nella lucandina grazie tesoro ok scoprire la corrente attraverso cui l'energia scorre coincidenze e casi fortuiti che intuiscono e guidano la realtà sogni che vanno interpretati e rapportati alla vita grazie grazie mille la allora tesoro se vuoi mettiti giù prenditi cura dei commenti poi rileva se c'è qualche domanda anche qualche affermazione particolarmente e diciamo aperta no illuminante così noi poi discutiamo insieme stiamo un po con le persone va bene ok ci vediamo ciao tesoro a dopo il là che bello il là ci siamo conosciuti a dei corsi ha partecipato ai nostri corsi e ha sempre spiccata per la genuinità proprio una persona assolutamente pura pulita che ha colpito a tutti si parlava moltissimo anche con lo stato di lei no perché contenuta diversi corsi e fino a quando non l'ho vista non l'ho vista l'opera non una sua rubrica dove andava a spiegare delle cose mi ha entusiasmato da lì poi li ho fatto la proposta a cui non poteva rifiutare cioè di partecipare con noi pur mantenendo ovviamente le sue caratteristiche professionali anzi gli ho detto che questa è una cosa molto importante da osservare che dovrà essere assolutamente se stessa nel modo in quello fa perché altrimenti se soddisfa le esigenze di qualche di un altro che potrebbe essere anche la linea di qualche cosa finisce per naturalizzarsi di conseguenza non toccare più la sua anima l'anima la tocchiamo quando siamo noi stessi non quando partecipiamo a un modello questa è una cosa molto importante lei è molto brava in questo quindi gli auguro davvero tutta la fortuna che merita e ne avrà sicuramente allora settima profezia di celestino in tanti voglio ringraziare ragazzi mi state seguendo in tantissimi soprattutto questa rubrica che particolarmente vissuta con entusiasmo perché sapete che noi usciamo su tre canali youtube un profilo facebook e oltre oltre a questo mettiamo il nostro video nella nostra piattaforma privata vimeo non nostro canale privato di meo che poi viene rilanciato attraverso facebook attraverso telegram e quindi a riesce ad avere una buona ridondanza in tutto ne tocchiamo mediamente le puntate fino adesso questa è la settima comunque fino fino alla sesta abbiamo toccato punte la prima addirittura è arrivata a 50 mila visualizzazioni queste qui si usciranno tra i 30 e le 40 mila visualizzazioni quindi grazie davvero di cuore ovviamente ci dobbiamo organizzare per quanto riguarda il fatto di poter essere visibili perché youtube oltre a togliere le visualizzazioni sapete cosa fa ci limita anche nella possibilità di poter essere distribuiti però comunque noi grazie alle persone che collaborano con me grazie a tutti di apparati capiamo riusciamo a sofferire a questo danno che comunque volutamente youtube ci procura non soltanto a me anche ad altre persone e osserviamo che quelli che poi non vengono toccati anche se si lamentano e piangono un pochino però sono tutte quelle persone che hanno una linea diciamo molto simile a quella che desidera avere il governo quindi una linea governativa anche quando c'è qualcuno ce n'è uno di recente anche quando c'è qualcuno che sembra essere un astensionista una persona che comunque si accorta che se va a votare faccio un piccolo inciso concedetemelo anche se che se sembra essersi accorta no che se va a votare in realtà spalleggia un sistema che se non lo facesse questo sistema sarebbe in grandissima crisi non avendo capito questo non so se non l'ha capito se non vuol capire comunque ha lamentato no a quasi si è un po preoccupato per un'ipotetica censura che non è mai arrivato nel suo canale assolutamente e oltretutto è apparso insieme a toscana ha detto una cosa bellissima dovreste unirvi tutti benissimo quindi una persona che anche se anela e parla dell'assenzionismo in realtà pensa alla soluzione delle votazioni la soluzione elettorale come la soluzione papabile è sorprendente come certe persone nonostante stiano guardando la vita l'esistenza da un punto di vista diciamo illuminato ancora cadono in certi trucchi e sto parlando di loro pensando bene altrimenti siamo ci sono assolutamente persone motivate a cadere in determinati trucchi perché quando cadono in determinati trucchi e fiancheggiano e spalleggiano una linea di sistema che poi le fa trovare e diciamo le benedisce un po no all'interno delle di questo di sistema appunto quindi ne beneficia beneficia di cose che poi adesso andremo a vedere come sono invece delle criterie allora si parla di missione settima profezia celestiale settima profezia di celestino si parla di missione le persone quando vivano all'interno della loro vita hanno sempre un sacco di difficoltà per due ragioni fondamentali la prima perché non sanno fondamentalmente chi sono la seconda perché nella ricerca di questo vanno a chiederlo ad altre persone questo è l'errore di cui vi ho parlato all'inizio quando ho fatto quando ho fatto vi ho presentato questo questo video no su telegrano su facebook anche sul mio whatsapp personale non nello status non vi ho detto questa cosa sono i grandissimi errori che facciamo quando c'è qualche terapeuta no che millanta di sapere di far scoprire i propri talenti subito le persone lo guardano con grandissimo interesse e dicono ma che bello finalmente a qualcuno che mi dice cosa sono venuto a fare noi di conseguenza la persona millanta e inizia a dirgli tutto quello che comunque è l'attitudine di questa persona ovviamente tutte le cose prestigiose un po come quando facciamo le regressioni no qualcuno un cartomante magari qualcuno che comunque dice millanta di vedere nelle altre vite parla sempre di queste persone come se fossero dei grandissimi personaggi no quindi che ne so io minimo minimo la padre pio all'arcangelo gabriele principesse principi re e regine come se non ci fossero domani personalmente conosco quattro discendenti dall'arcangelo gabriele quindi facciamo molta attenzione voi sapete la mia predisposizione a fare tutto per conto nostro questa è una cosa molto importante perché purtroppo uno degli inganni di matrix che noi non mettiamo più in discussione che sostituiamo il nostro sistema il nostro apparato di gestione della nostra vita con quello di un esperto la nostra sostituzione avviene per varie ragioni la prima perché questo ci de responsabilizza la seconda perché abbiamo paura a prendere delle decisioni la terza per ragioni di fatica semplicemente molto meglio preferibile che una persona ci dica cosa sei cosa vuoi fare c'è un altro errore di fondo il fatto di poter pensare che la nostra missione sia sia una soltanto no qual è il tuo talento qual è la tua missione in questa vita e viene fuori la tua missione quella di salvare le persone faccio un esempio non è mai così la missione è unica ed è quella di evolvere uguale per tutti lenta all'interno di questo processo ci sono le sotto eh ora sottomissioni non questa parola non forse in caso non la dica comunque diciamo dei sottogruppi che riguardano le missioni ok quindi io in questo mese ho la mia missione di questo mese in questa settimana ho la missione la mission della settimana no ho il talento da sfoderare in questo periodo quindi non è mai in qualcosa di statico ragazzi la mente quando si ha a che fare con una persona razionale lo si capisce perché semplicemente tende a cristallizzare quello che quella persona apprende e quindi c'è la ricetta è così dice in questa mente siamo in un modo dinamico lo ricordo a tutti tutto quello che di fatto esiste non può esistere tra un attimo potrebbe non esistere più tutto viene trasformato tutto muta una mia sensazione un principio vale per tutti ma assolutamente dipende dalla contestualizzazione dipende da dove mi trovo cosa faccio perché lo faccio questo caratterizza poi la validità ma anche la qualità di quello che io vado a vivere come esperienza quindi non esiste niente di fisso quello che può rendere sempre funzionale un principio anche in un contesto dinamico suscettibile di ingerenze è la poesia è l'amore è la è la musica è la è la è la la canzone sono tutte quelle caratteristiche che comunque stimolano spingano l'essere umano l'indell'umano ha un'espansione l'indell'umana ha un'espansione quindi l'errore più grande da fare è quello di andare da una persona e chiedergli per favore mi dici che missione ho e perché ovviamente viene viene detta una cazzata viene detta una cazzata che siccome un po come quando si legge l'eroscopio no da alcuni altri millantatori no non tutti per per fortuna sono così però molti insomma quando tu leggi non so l'oroscopio di un giornale insomma così insomma per un mini di palmati no c'è sempre notizie meravigliose ma vi ricordate no fox quando disse prima della fantomima disse che sarà un anno particolarmente favorevole diciamo per gli spostamenti eccetera così non avevi sapevo quanto di più opposto poi alla fine dove poteva dire in relazione a quello che poi era l'esperienza del resto di quel nostro periodo no che noi voi tutti noi tutti ricordiamo quando una persona vuol capire la sua missione dovrebbe iniziare a stare un po da solo al damerini disse io mi alzo felice mi deforma attraverso gli altri noi siamo abituati siccome avevamo sempre questa paura che poi alla fine è paura della morte guardate la paura della morte quando una persona si risolve la paura della morte non è semplicemente che vive a un altro livello semplicemente non è soltanto quando chi va a risolvere quando arriverà il momento della morte ma inizia a vivere a un altro livello scusate mi sono sbagliato inizia a vivere a un altro livello tutto quello che fa lo fa con un altro spirito con un altro atteggiamento non avrà mai la tentazione la sensazione che qualcosa li sta finendo qualcosa che sta vivendo sta per esaurirsi ma avrà la sensazione di andare sempre a esistere funzionalmente alla sua eternità quindi cambia completamente lo scenario quindi la paura di stare da sole determinata da questo mentre molto importante starci fare delle passeggiate da soli stare in condizioni in situazioni da soli chiaramente la mia non è un invito a diventare remiti capite bene no è un invito ad avere dei momenti in cui noi stiamo da soli ragazzi da soli non vuol dire con cellulare la soli vuol dire che siamo da soli noi con la natura mi metto lì guardo un albero l'ascolto ascolto il cielo guarda il cielo guardo il mare ascolto il mare faccio delle cose insomma da solo senza avere qualcuno che mi parla ma anche quando solo in una spiaggia spessissimo una cosa che amo tantissimo perché il mare offre sempre una fonte di meditazione che è poderosa a condizione che non ci siano degli schiamazzi attorno a noi però considerate c'è la talassoterapia la talassoterapia una terapia che proviene dal sale che procura un grandissimo rilassamento fa bene l'umore fa bene al fisico ovviamente drena non sapete che comunque permette di poter estrarre noi liquidi no quando la persona sta al mare ma quando lo sente il mare l'odore del mare perché a questo a questa in questa funzione proprio tonificante se volete il rumore delle onde io studia da me perché è stato l'ha visto che c'è stato l'ha visto o un tamburo oceanico che simula perfettamente il rumore del mare e questo tamburo oceanico è un tamburo che stimola le onde teta e beta che sono santi quindi vuol dire che quando sono di fronte al mare sono da solo senza schiamazzi da solo senza cellulare da solo ok e mi metto lì ad ascoltare il mare inizio ad accedere a dei a dei campi di informazione questa non vedete noi si va spesso alla ricerca di situazioni di meditazione no io stesso ho fatto un tipo di di meditazione dove non so come si chiama sonia quella che abbiamo fatto insieme quel che ti mettono dentro quell'uovo la sospensione cucù non ti ricordi è comunque una vasca a isolamento quasi completo dove praticamente non c'è alcun tipo di rumore non c'è niente c'è nulla veramente no e galleggi lì non almeno il peso corporeo francamente non è stata un'esperienza da poter dire come mi aspettavo per essere sinceri tuttavia privazione sensoriale deprivazione non depriva deprivazione amore è un depravato è una vasca di deprivazione la vasca di deprivazione sensoriale bene e quindi quando noi si va a cercare tutte queste forme di meditazione ci rivolgiamo a degli esperti basterebbe stare nella nostra natura noi abbiamo tutto ci mettiamo al mare ovviamente anche ecco vasca di privazione sensoriale scrivono deprivazione amore deprivazione sensoriale deprivazione guido e quindi quando noi stiamo in natura noi impariamo ad avere un contatto particolare dall'errivano tutta una serie di intuizioni iniziamo a sentire una voglia particolare di fare qualcosa me la rifaccio per comprendere la nostra missione dobbiamo mettersi nella condizione di grande isolamento grande ascolto non è una cosa difficile è una cosa bellissima posso mettermi lì e guardare il fiume da solo senza cellulare ma cellulare non me lo porto nemmeno dietro sono da solo una condizione veramente di grande connessione a noi ci sembra isolamento però in realtà è un momento di grande connessione ascoltiamo facciamo iniziano a rivenerci delle idee naturalmente sempre questo succede al cento per cento a meno che una persona non sia totalmente inquinate che quindi magari quando lì da sola senza cellulare stelle a pensare cosa li potrebbero aver scritto nel momento in cui uno lì con il cellulare in mano faccio un esempio perché ci sono anche gradi di intossicazione tecnogena che sono abbastanza importanti comunque parliamo di una persona normale diciamo dove dove il suo grande il suo grado di tossicità tecnogena e non è poi così grave si mette lì e ascolta iniziano ad arrivare tutta una serie tutta una serie di informazioni cose sensazioni e una voglia particolare di fare qualcosa questa voglia particolare di fare qualcosa è un qualcosa che ora ce l'hai lì magari lo fai dopo una settimana e hai un'altra voglia perché le missioni o quantomeno le nostre attitudini che non mettiamo in atto sono sempre mutevoli non sono mai costanti però succede anche una cosa molto importante e questo è il primo scalino che ci consente poi di poter uscire dalla matrix ricordo che per uscire dalla matrix e noi non è che ne usciamo perché andiamo a vivere in un bosco noi usciamo dalla matrix semplicemente perché iniziamo a vivere la vita non utilizzando più i dettami della matrix 1 un esempio è quello di pensare se io faccio quello che voglio fare cioè quindi ho questa sensazione meravigliosa di fare le cose che voglio fare non potrò più vivere perché nessuno mai mi pagherà per fare non lo so io i braccialetti faccio un esempio adesso che mi viene a mente i braccialetti perché ho due carissime amiche che sono quelle che poi mi forniscono i braccialetti che hanno cambiato vita per me sono un esempio che metto sempre in evidenza loro la loro attica di fare braccialetti ne fanno dei bellissimi tra l'altro a tutto lo staff ordinato dei braccialetti no che poi regalerò al briefing che faremo ad agosto alla fine di agosto scusate l'ho tenati da loro perché fanno dei braccialetti veramente meravigliosi quindi quando loro hanno smesso di fare un lavoro che era devastante iniziato a fare la loro arte e stanno facendo delle cose stupende ovviamente no quindi quando una persona pensa che ne so io fa e sente la sua attitudine propensa con la mentalità della matrix dice non riuscirò mai a fare delle cose a fare delle cose redditizie possono permettere di poter avere un reddito se io semplicemente seguo la mia attitudine perché mai nessuno mi pagherà per fare i braccialetti ma nessuno mi pagherà perché la mia attitudine è quella di non lo so dopo il viaggio astrale io ho avuto una un desiderio pazzesco pazzesco di costruire delle lampade delle attaccapanni dei portalibri delle cose numerosissime cose mia casa la casa è piena di questi lavori che ho fatto con i legni di mare per esempio no quindi non l'avevo mai fatto prima ma mi produceva una cosa incredibile mi alzavo la mattina iniziamo a costruire queste cose fino alla sera ero lì sempre a costruire queste cose sono passato un paio di mesi a fare questa cosa fino e non immaginate tra l'altro poi ho provato anche a venderli e non ce la facevo subveniva bene soltanto se li regalavano se li regalavano a quel punto quindi quello non era semmai un qualcosa che mi avrebbe garantito un reddito perché comunque la ricerca in tal senso andava avanti per quanto mi riguardava anche io volevo fare qualcosa che comunque mi garantisse anche di poter vivere no era soltanto un passaggio era la dimostrazione che se avevo un particolare intuito o spinta sarei riuscito a fare qualsiasi cosa infatti le lampade che ho fatto sono veramente per chi è stata a casa mia la vista sono bellissime veramente delle cose proprio pazzesche no rudimentale perché avevo veramente pochissimi attrezzi però sono veramente belle artistiche quindi noi sentiamo questa voglia questa voglia di fare iniziamo a portare avanti la nostra missione quando noi iniziamo anche a mettere in pratica quell'intuito quella spinta che ci è venuta iniziamo ad essere protetti vuol dire che il mondo inizia a prendersi cura di noi alla ragazzi è così marichelle e olga sì sono loro ah sono loro è solo marichelle e olga solo delle ragazze dei braccialetti ecco hanno anche un sito canale telegram molto molto carino poi magari scrivono nei commenti così le persone lo fanno vanno a vedere un'occhiata proprio bello anche agli occhi anche solo solo a vederlo così e per quanto riguarda il per quanto riguarda la protezione il inganno della matrix è quella di dire tu sarai protetto nella misura in cui ti sarai dato alla matrix se vuoi fare quello che pensi di voler fare perché troppi grilli nella testa ricordate quando i nostri genitori non sono che volte l'ho sentita questa frase un ragazzo magari in quel momento diciamo io vorrei vorrei cantare c'è troppi grilli della testa prendi la zappa e basta fare che va benissimo zappare se uno lo vuol fare cantare è importante che faccia questa cosa che la segua ovviamente no è troppi grilli della testa quando una persona segue la sua attitudine quando la persona segue la sua voglia di sentirsi il mondo inizia a proteggerlo e ragazzi vi sto parlando della storia della mia vita nel senso quando io vi parlo di principi non parlo di principi astratti perché il grande problema di questo momento è che ci sono persone che parlano e dicono cose incredibili senza mai dimostrarne una perché purtroppo non so se ne sono consapevoli o meno però sanno che le persone la maggior parte delle persone sono ormai osservate all'intrattenimento essere osservati all'intrattenimento vuol dire provare soddisfazione soltanto per le cose che si fanno nell'immaginario senza pensare o sperare di poterle fare nel pratico però ragazzi la realtà è determinante la realtà ancora questa pena faccio l'esempio la realtà è questa cosa questa è della realtà che cos'è la realtà la realtà un qualcosa che continua a esistere anche quando smetto di crederci quindi è un qualcosa di fissato una cosa fissata per me è un qualcosa di stabile quindi di riferimento se io non ho delle idee corrispettive per quanto riguarda l'incidenza della mia realtà io non posso dire di aver fatto una sana trasformazione fin tanto e non saremo in questa dimensione con un corpo fisico che poggia su un ambiente materico io dovrò rispettare questa legge avere come riferimento la materia la realtà e di conseguenza mettermi nella condizione di poter dire io sto cambiando in relazione a quello che è il mio riferimento stabile cioè quello materico questa è una cosa molto importante mentre le persone molte mi basta soltanto di cullarsi la mente no l'intrattenimento ragazzi l'intrattenimento è il demore di questo momento il fatto di avere l'impressione di fare un qualcosa di significativo quando in realtà non stai facendo nulla sta girando attorno a un palo praticamente e ti sembra di viaggiare sei su una nave legata al molo e ti sembra di viaggiare questo l'intrattenimento il grande dramma dell'intrattenimento siamo in un truman show siamo in cui le persone ci stanno in maniera consapevole non solo ringraziano pure perché dicano grazie al fatto di essere dentro la metix che mi permette di non poter essere mangiato da leoni senza pensare che se tu fossi libero magari non saresti mangiato da leoni lo so che hai visto dei film dove le persone vengono mangiate da leoni adesso sto facendo un esempio ovviamente no però in realtà quando una persona vive la sua missione diventa benedetto in questo mondo iniziano ad arrivare delle risorse allora voi sapete no questa questa è una cosa che fa un po fa un po sfortunato le persone che si sono auto sfortunate perché la sfortuna non è qualcosa che accade perché la persona è sciagurata perché se parliamo di questo per quanto riguarda la mia avvenuta in questo pianeta potrei dire che ovviamente ero molto sfortunato perché molti di voi sanno in quale maniera sono arrivato su questo pianeta la sfortuna qualcosa che una persona semplicemente crea e ricrea se lamentandosi delle sue situazioni sentendosi infusi l'anime guardando gli altri con invita ci sono tanti modi per poter accumulare sfortuna no e quando io dico che faccio delle donazioni per esempio molte persone sfortunate no cominciano a essere gelose non c'è una dire il bene si fa ma non si dice ma io lo faccio per dirvi questa cosa era il mio sogno poter fare delle donazioni adesso lo sto facendo mi sto rivelando il mio sogno vi sto dicendo che ho messo in atto delle meccaniche che poi hanno funzionato a tal punto che ve lo sto facendo vedere le persone sane e pulite sono generose di queste anche perché moltissimi hanno beneficiato di questa questa mia generosità no altre persone invece sfortunate ovviamente perché si immaginano chiesti a quando non so dei soldi e pensano pensano che comunque sia un qualcosa di indegno che non dovrei dire per esempio no a tanto arriva la natura umana la natura umana è molto molto particolare no spesso si trincera dietro a un finto buon no una morale no che poi alla fine anche questa millanta purtroppo della sbatte in faccia semplicemente per nascondere quanto sono meschini ecco comunque mi rivolgo a tutte quelle persone che sono contente che io da zero si è arrivato a un punto in cui faccio ingenti donazioni a molte persone considerate io ho ricevuto tanti attacchi nel corso della mia attività di improvvisato youtuber no l'attacchi più ferrati sono arrivati quando ho donato 2000 euro un'associazione un altro canale ha messo in evidenza senza che lo sapessi tra l'altra messa in evidenza questa cosa ok che c'era il mio bonifico di 2000 euro sapete quanti critiche mi sono arrivate io vorrei sapere così come quando le persone all'inizio no l'inizio è molto debole così no ti dicano hai tante persone che ti criticano perché come vedano voi non immaginate quando c'è un uccellino libero non immaginate quelli in gabbia come si incazzano proprio no sono proprio loro così no io vorrei sapere no tutte quelle persone che mi hanno criticato che hanno che hanno visto del male in quello che ho fatto io non so dove sono loro in questo momento me lo immagino però non so non posso saperlo però so dove sono io vedete quanto quanto di vario c'è vedete quanto questo principio che chi critica è sempre inferiore è veramente vero quando si critica non si parla di critiche mascherate da buonismo per poter far sì che la propria miskinità non emerga perché di critiche ne rivolgo tantissime se c'è una persona che fa lo youtube ha un po di influenza grazie a questa influenza viene messa in politico a nella andare in politica non perché ha qualcosa da dire ma perché ha qualcosa da guadagnare lo sputtano se c'è qualcuno che cerca di truffare le persone come tantissime volte ho fatto io lo sputtano ma questa non è una critica questa è una denuncia che è completamente diverso quante persone che sono messe si sono autorizzate a criticare soprattutto quando ho fatto delle donazioni però in realtà le persone non sanno che questa cosa qui nasce da una profonda intuizione nella profonda emozione di quando io ho visto scinder list ho visto scinder di serie ci sto raccontando la mia missione un modo in cui l'ho trovata per esempio e quello che è successo poi nella mia vita scinder list a un certo punto nella parte se non avete visto questo film mi raccomando guardatelo perché un film è capolavoro nel momento in cui è una storia reale una storia reale che tra l'altro è stata accompagnata da un'altra storia che ha fatto che ha fatto pandan con quello che potrebbe stata diciamo l'evoluzione dall'aver visto questo film nel racconto c'è un video meraviglioso che c'è un signore che ha salvato veramente tantissimi tantissimi ebrei no tantissime vite no viene invitato in una riunione questo signore senza sapere che in realtà tutti gli spettatori a tutte le persone lo aveva salvato a un certo punto era qui mi comavo un po aspettate non ne volevo parlare perché tutte le volte così allora devo immaginarmi la faccia di brunetta ecco allora quando la fate racconta tanto la sapete non c'è che lui c'è tutta la gente nel pubblico perché insomma via poi della scrivo e quando succede questa cosa io ho avuto un'emozione fortissima aspettatevi ora brunetta mi ci voleva foto di brunetta allora ho avuto un'emozione fortissima no e lì ho capito che quello poteva essere il senso della mia vita quando io ho fatto questa cosa molte persone possono pensare accidenti quindi balitti e beneghi ti dai e di conseguenza poi c'è ti consumi non so ma nel senso dai e quindi di conseguenza è un atto di grande sacrificio come ce lo fa credere la chiesa per esempio no la mia situazione economica è diventata florida quando io ho iniziato a dare questa non è vedete la paura di rimanere senza risorse qualcosa di intrinseco nella natura umana ok quando però tu sei guidato della tua missione perché veramente la senti non pensi più alla paura semplicemente manifesti la tua missione la paura viene risolta intrinsecamente automaticamente quindi mi sono ritrovato all'avere la bellezza di a dare dei contributi delle persone avevano bisogno veramente io i contributi le do soltanto a chi conosco di persone dare dei contributi spontaneamente liberamente e vedermi arrivare tantissimi soldi ho aumentato contributi e sono aumentati soldi ho aumentato contributi e non sono arrivati soldi è successo anche questo però era troppo bello poterlo dare perché in scindernista lo dice una cosa meravigliosa quando lui si rende conto che l'orologio che c'è in al polso sono due persone alla vita di due persone si può essere così porca putta devo guardare una foto di brunetta ma more me la porti una foto di brunetta anche draghi va bene non ce l'hai more ok quindi quando poi c'è qualcosa che ti tocca così profondamente tu naturalmente inizia a muoverti ti muovi nella vita è lì che esce la matrix perché tutti quei vincoli che ti farebbero fare delle cose che altrimenti non faresti mai non è più seguite stesso questo è il segreto della vita nella settima illuminazione si parla in questi termini perché se si comprende come fare per arrivare a toccare queste corde non ti ferma più nessuno vuoi avere fortuna vuoi avere successo vuoi avere gioia vuoi avere energia vuoi innamorarti della vita che va a inserirsi perfettamente nella tua eternità devi seguire veramente quello che tu sei tu non potrai mai comprendere chi sei se vai dalla struttura esterna a te e te lo fai dire o anche da una persona esterna a te non può dirtelo nessuno puoi soltanto scoprirlo quindi quando noi leggiamo la profezia di celestino e quando si parla di questo senso di missione questa missione da rilevare è fondamentale che non si adotti questo processo è fondamentale che noi facciamo in questa maniera il cambiamento lo fai non se vai a votare quando vai a votare non cambi niente di te il cambiamento lo fai quando tu realmente prendi il contatto e consapevolezza di te stesso allora inizi a muoverti con un altro criterio con un'altra energia è questo che ti farà cambiare la vita io questa cosa vedete veramente sono ho ricevuto tantissime critiche e tante erano veramente meritate però su una cosa su cui dovreste veramente prendere spunto è questo che quello che vi sto dicendo non è un discorso è la storia della mia vita e l'ho realizzata in questa maniera passando da questi aspetti e andando avanti non sforzandosi quando tutti sforzi la sua non sta facendo qualcosa di tuo sentendoti quando tutti senti da lì poi nasce un'energia superiore che ti fa fare delle cose stupende tesoro ila ti tiro su ecco ciao tesoro bene ti vedo sfocata prego sei silenziata come vera sai che porta bene ok no sai perché avevo silenziato perché avevano acceso fuori il trattore quindi non sembra rovino il momento che tra l'altro ti sono stati tutti tutti vicini ti hanno ti hanno mandato un sacco di cuori e si vedeva che avevo bisogno d'aiuto sei stato veramente dolce allora vediamo un pochino qualche tra l'altro ti volevo ringraziare perché questa cosa del parlare della missione è una cosa di cui anche io parlo tantissimo e ci sono stati tanti commenti perché evidentemente è un argomento che a cuore di tutti perché forse nella società in cui viviamo spesso ci troviamo a fare cose che sono molto molto distanti da quella che è la nostra vocazione la nostra missione esattamente per quello che ci colpisce così tanto allora giuseppina ti diceva subito all'inizio quando finirà questa meravigliosa rubrica sarebbe bello crearne altre sì ma guarda allora farò farò così allora considerate però questa cosa adesso me lo posso permettere perché per due motivi uno perché sono in ferie due perché una donna meraviglia staccanto che mi consente di poterlo fare ecco perché impiega tempo però io non sono non faccio solo attività di youtuber che faccio attività di consulenza faccio attività di terapeuta seguo una piattaforma ovviamente tutto il progetto che sapete faccio lo youtuber e tengo i corsi ecco quindi talvolta non possa essere presente costantemente con la costanza che richiede una rubrica del genere perché comunque quando poi inizio a rifare la mia vita che una vita meravigliosa trovo però è veramente molto intensa ecco diciamo però già ho già dato a disposizione alla nostra giorgia che tutte queste lo sto già facendo prenderà di tutte queste serie la sintesi toglierà il discorso iniziale discorso finale prenderà soltanto la parte centrale e ne farà un ne farà un video non riassunto in questo senso e poi stavo dicendo appunto questa mattina e l'area che probabilmente inizieremo anche con spotify con dei podcast quindi inizieremo proprio a inserire a mettere i nostri contenuti nei podcast così da poter ascoltare quando facciamo le nostre cose insomma ecco quindi continuerò comunque a fare queste cose però ecco sarà più un elaborato se volete piuttosto che qualcosa di originale poi magari se c'è qualcosa di bello fare anche qualcosa di originale prego allora gianni dice buongiorno ragazzi luca hai visto l'ultimo video di corrado con me più sul voto o non voto sì l'ho visto e allora io voi sapete quanto amo corrado malanga no e soprattutto l'ho amato quando a parte che ha espresso precisamente il mio pensiero no e l'ho messo in piattaforma il video è ovviamente re indirizzato è più un canale che ho rispetto tantissimo come rispetto lui il ragazzo che lo sta portando avanti perché la questione veramente in gamba sia dal punto di vista tecnico e dal punto di vista umano quindi ho re indirizzato ovviamente in piattaforma in golden memory si può andare a vedere non ho messo nel home page ho messo nel home page ho messo questo video che cliccando si va a ci si collega al canale di me più ecco e non solo la pensa come me e dice le cose che dico io cioè se tu voti vai a vai a spalleggiare un sistema che se non tu uno spalleggiassi sarebbe in grandissima crisi ecco il modo per colpire quello di non andare a votare no però parla anche di personaggi fa nomi e cognomi come faccio io per quanto riguarda tutta una serie di persone che hanno che si sono rese protagoniste di una profonda corruzione no come green scar dove li passano che una persona che io ammiro tantissimo perché dal punto di vista umano è una persona molto competente è una persona che so che i suoi trattamenti le sue consulenze o i suoi corsi fa partecipare anche gratuitamente chi non può pagare questo per me è un segno di grande apertura di grande espansione di coscienza però poi allo stesso tempo chiede un green pass per andare alle sue conferenze è stata una cosa incredibile come è stata incredibile il fatto di lui non si fosse nemmeno reso conto della gravità di quello aveva fatto ecco così no quindi mettere in evidenza queste cose quindi non voglio schiacciare cardo scadovelli perché umanamente scadovelli lo amo perché è stato molto importante per me no però questa corruzione nemmeno voglio dire che chi è corrotto però l'indole si può corrompere questa corruzione di fatto che avviene nell'individuo quando hai un po di autorevolezza autorità dove a un certo punto per la cosa che ti convendi più dimentico di quello che poi invece dovrebbe essere il senso è il motivo per cui le persone che ascoltano quindi un po corrompi il motivo per cui tu sei un trascinatore di folle no e le porti poi in un baratro se un pifferaio magico si a me questa questa è una cosa questa è una cosa che non riesco a perdonarla francamente perché non ci sarebbe conto della gravità noi abbiamo noi che sì che ci cadano un po abbiamo un compito molto serio noi possiamo ci sono delle persone che pendono dalle nostre labbra una cosa che io non vorrei mai però lo fanno se tu dalle indicazioni sbagliate le persone le rende infelici le persone non si rendono mia conto della gravità di questa cosa e quindi è importante che una persona che fa comunicazione non c'è solo il lustro di dire che è bello oppure quando v'è fuori che le persone ti riconoscono a me succede sempre che le persone mi riconoscono e mi salutano a volte vedo anche quelli che mi conoscono e mi odiano però ti riconoscono le persone certo capito cosa nemmeno questo ragazzi è il fatto di sentire la responsabilità di quello che si sta facendo quindi se a un certo punto una persona fa dei video di informazione sei un tecnico molto bravo ora non faccio nomi proprio capite bene chi sono esci fuori da ultimo dopo un anno dalla fantomima esci fuori fai dei contenuti di denuncia meravigliosi sei bravissimo come dialettica come montaggio sei numero uno ok prendi credibilità perché dici delle cose vere con la tua credibilità fai vedere che si è andata a firmare per le votazioni e stai trascinando le persone in un punto che non so se tu ti rendi veramente conto quanto è grave scelta personale non è che una persona deve far nulla però quello che mi viene da pensare che le persone ti hanno scelto per i tuoi video per quello che tu fai no e poi alla fine però ti vengono anche a preferire perché magari a scimmiottare il tuo atteggiamento perché magari vedono che tutti affidi al fatto di votare e anche quello fa parte di una scelta e va benissimo però il sospetto a questo punto viene fuori per due ragioni uno dove cazzo è di un anno prima sbuchi dal niente diventi il numero uno perché lui è il numero uno per quanto riguarda i video in questo momento è un canale che ha una crescita esponenziale non lascio down per quello che dici no finisano talmente libato e poi certo punto viene porti cerchi di trasportare fuori le persone avete capito di che parlano prego allora giuseppina ti dice credo fermamente che la nostra missione è l'unione delle nostre parti anima mente e spirito sì sì tanzia 15 anni ma è ragione però sì sì penso che sia questa cosa qui e c'è un ricongiungimento con se stessi per questa ragione abbiamo bisogno di quiete di isolamento no che non vuol dire vivere isolati ci si isola per vivere bene con gli altri ecco se però una persona è sempre con gli altri a un certo punto finirà per essere quello che desiderano che gli altri siano sia senza rendersene conto prego quello quello un po di quello che succede alla mamma alla mamma che alla madre che dopo un po diventa la mamma no la mamma la moglie e di conseguenza perdere completamente di vista se stessa prego allora e brenda ti chiede se può mandargli l'audiolibro della profezia di celestino un certo manda la mail sono già già il file e ci mandi la mail con queste richieste te lo mandiamo poi monica chiede volevo chiederti cosa ne pensi delle canalizzazioni io le chiamo canalizzazioni canalizzazioni le chiamo allora è una persona che canalizza e ce ne sono di brave non vanno su youtube eccezione come stare su youtube però quello mi sembra che sia un po troppo sia un po strumentalizzata perché tra l'altro anche una donna che non ha bisogno di pubblicità perché ha una lista d'attesa di un anno un anno e mezzo per quanto mi riguarda è stona benassi lei è vera però tutto quelle la maggior parte delle persone che vanno ragazzi c'è una che 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 canalizza chiamiamole così vai una persona che canalizza che ha detto che l'allenamento di andare a votare determinate persone grazie stiamo scherzando quindi ci sono non ho assolutamente fiducia io credo che questa possibilità di poter avere dell'intuizione quindi di ricevere dell'informazione sia a pannaggio di chiunque a condizione che si alleni questa questa caratteristica anche se le persone ovviamente per velocità perché fa prima per brevità quindi e per pigrizia preferisci che ci sia una persona che ti dice che ti dice che di canalizza e potrei farlo anch'io delle canalizzazioni non avviene una persona che mi dice senti qual è il mio futuro guarda io lo potrei dire senza avere la paura la paura di sbagliarmi magari non posso dirtelo però posso dirti molto di te dice dimmi tutto guarda sei un cretino lo posso dire con certezza che sei un cretino no siamo sicuri di non potersi sbagliare perché quando una persona annichilisce il suo sistema cognitivo in favore dell'opinione di un'altra persona spesso non sconosciuta un cretino penso di essere stato chiaro in merito alle canalizzazioni allora con questo non sto parlando del cento per cento dico quelli bravi quelli bravi non sono non vanno su youtube con l'eccezione di sono benassi ha detto anche ricordate prego allora dario z la missione presume che qualcun altro ti abbia mandato se io mi sono automandato allora significa che avevo bisogno di nascere allora nella subordinazione è un principio che di responsabilizza no e invece in realtà tutto quello che una persona fa vive pensa e crea per ragioni autonome ok quindi non è il caso di sentirti subordinati qualcuno ti ha mandato l'hai deciso tu e che quantomeno ti è stato chiesto e quindi tu hai accettato quindi è sempre un qualcosa che riguarda una scelta prettamente personale prego allora ilisa ambrosè dice forse mi sbaglierò ma per me andare a raccogliere bette funghi e altro corrisponde alla meditazione credo e mi piace molto si meditazione si è infatti ciao elisa e infatti questo è un elemento è un una condizione in cui è un ricongiungimento con la natura e il ricongiungimento con la creazione vedete ragazzi quando nel sistema nel sistema pedagogico e sia montessoriano ma anche di rousseau eccetera piaget no per non parlare di stener ovviamente c'è una c'è una componente che è che è incredibile che quando noi la facciamo assumiamo un paradigma cioè che noi siamo dio era è questa quattro il fatto di mettere un seme attenzione con le caratteristiche che ti consentono di non poter ricongiungere minimamente rispetto alla meccanica che dovrebbe essere osservata al fatto che poi da quel seme nasca un insalata prendi il seme lo affidi alla terra ogni tanto l'annaffi ok dopo un po vai a vedere che nasce un insalata questa cosa è una cosa che ovviamente per quanto riguarda l'immaginario cazzo c'è un seme ma una piantina la coltivo quando una persona crea una cosa del genere sente un emozione che un qualcosa di poderoso soprattutto se quello che va a coltivare un qualcosa per sé inizia a instaurare nella sua mente il fatto che questa persona è in grado di poter creare delle cose capite questa è una cosa molto importante per questa ragione nei più grandi illuminati sistemi pedagogici è presente questa questa cosa tra l'altro una delle scuole che stiamo sostenendo è una scuola montessoriana e quindi adottano questo sistema tra l'altro se avete sulla zona di milano se avete necessità di avere informazioni su questa scuola di montessori tra scuola montessoriana che non stiamo sostenendo fatta da persone veramente straordinarie vi prego di comunicarcelo così poi vi diamo tutta l'informazione del caso prego allora paolo non so se è un problema ma ma un problema mio ma vedo tutto falso è tutto falso non è tutto falso infatti paolo è un momento di illuminazione e l'inganno è quando la persona crede a quello che sta vedendo quello che gli stanno dicendo quello che sta sentendo è tutto falso quando si parla del cielo si parla del nascosto del celato una persona perché tutte quelle illuminate sono no contro tutto no c'era cosa lì selvaggina no selvaggina bucarelli no la bolla bucarelli che praticamente diceva 10 anni no no green pass e no vax e no no tuttora tutto e ridicolizzava questa cosa siamo no tutto tutto quello che dici tu siamo no volevo contrarre a questo ma non per uno spirito di contraddizione perché tutto quello che tu dici è semplicemente il fatto di proporre il falso no è ovvio che sia così no quindi sono un no siccità sono un no no tutto ora di cosa parleranno dei due giorni in tutta italia che piove non cosa di cosa parleranno hanno l'invasi dell'enel che sono stracolmi per esempio capite vi accoggerete che continuerà a piovere e i fiumi continueranno a essere in secca capite per solo per fare un esempio quindi paolo quello che sta vivendo tu corrisponde a un'illuminazione quando ti accorgi che maya è l'inganno allora a quel punto tu inizi a toccare l'essenza delle cose quando tu esci da matrix e ci esci perché no perché riesce a guardare il mondo in altri occhi quella è una conseguenza perché riesci a sentire te e te stesso con altri elementi percettivi di conseguenza cambia anche quello che tu vedi fuori bravo paolo goditela allora corrado cavalieri dice buongiorno ragazzi le cose iniziano ad accadere quando ci abbandoniamo e ci arrendiamo lo stesso vale anche per comprendere la nostra missione iniziamo a capire quando ci rilassiamo eh beh sì bravo bravo corrado la penso come te sì sì perché fin tanto che c'è una sovrastruttura che tende a osteggiarne un'altra tu vedete c'è ora e voglio fare anche un video sul fatto che le persone parlano del combattimento del conflitto come un qualcosa come nazionale che non lo può mettere in discussione come vedono e vedono gli elefanti vedono i leoni no che si litigano il territorio pensano che anche gli esseri umani per poter andare avanti devono fare una guerra non può mettere in discussione quindi studi di guerre leggi di guerre sai di guerre vedi le guerre c'erano in realtà questo è una costrizione è un irrigidimento di fatto che noi subiamo che poi non ci consente di poter vedere realmente il mondo che ti concederebbe poter ti potrebbe concedere poter vedere se tu fossi una condizione di rilassamento quando stai in una condizione di relax cosa una condizione di rilascio per così dire semplicemente non è che non ti occupi più di guerra la guerra non ti riguarda non è a che fare con guerra non senti di guerra è semplicemente il tuo la tua attitudine diventa l'armonia e avrai a che fare con condizioni assolutamente armoniche anche se pensiamo la guerra essere un qualcosa di totalizzante non è mai così perché ricordo sempre che nella seconda guerra mondiale ci sono state delle persone che non hanno mai saputo di essere guerra prego in italia allora alessandra dice a me hanno detto che con l'arte i disegni non avrei mangiato invece dell'artistico mi hanno fatto fare lo scientifico questo era quello che ti dicevo prima che nella vita nella nostra società spesso si fanno cose che non sono in linea con quella che poi è la nostra vocazione no esattamente quindi hai troppi grilli per la testa quindi poi la persona va in una condizione di frustrazione e si sposa con una persona che non avrebbe mai sposato soltanto perché li garantisce magari la condivisione delle spese o quantomeno magari è facoltoso e di conseguenza un agio e però non senti la vita perché non stai avendo la tua vita bisogno di surrogate bisogno di consumare bisogno di drogarsi ha bisogno di praticare il narcismo sessuale magari che uno sfogo fisiologico di quanto c'è una profonda paura una profonda insoddisfazione da lì poi vivi la chiamerai vita in realtà è una forma di schiavitù e vai moretti prego prego giuseppina luca come fare per capire la propria bene artistica tanti anni fa mi piaceva fare tante piccole cose in casa cucito coltivare piante dopo una forte trauma ho smesso e non trovo più nulla è sì non so di che natura sia questo trauma ecco però è sempre quello che ho detto l'isolamento il fatto di sentirsi il fatto di avere voglia poi fare delle cose da lì poi partono delle attitudini dei talenti guardate non stateli a cercare il talento quando siete da soli e siete da soli e vi concentrate sentite avete un rapporto empatico con la vostra col vostro mondo circostante no guardate quello dopo un po interviene proprio una sensazione non andate non andate a cercare la razionalmente qualcosa che vi bussa cioè non è qualcosa che bussa la porta qualcosa che la porta della sfonda è cosa se mi spiego però voi non pensate a quella cosa lì l'accesso all'informazione non è mai razionale perché il razzocino conosce riconosce soltanto quello che già acquisito la l'informazione straordinaria arriva per effetto di un'intuizione che altri canali che non sono quelli razionali prego allora giovanni giovanna dice luca cosa ne pensi delle persone troppo sensibile sensibili come possono aiutarsi bisogna capire se è debolezza o è sensibilità ecco perché se debolezza si devono rinforzare se è sensibilità è una persona sensibile non necessariamente debole sono sensibile molto forte perché c'è una mamma una mamma è molto sensibile nei confronti del bambino suo figlio vale a toccare il figlio per vedere se debole qualunque mamma diventa poi una super donna ecco quindi c'è da capire bene spesso è debolezza la debolezza e la risolvi allenando che essere forte è l'allenamento non che poi ti permette di poter risolvere e gestire questa cosa qui no prego avevo visto anche una domanda di della sorgente mi sembra l'avevo messa in evidenza sì sì è più giù sì ah ok ok ci si arriva ora ok ok allora luisa buongiorno luca ora hanno deciso di inserire le piante per la ayahuasca nell'illegale ci tolgono il contatto con l'assoluto tu come ti eri sentito dopo questa pratica io ho fatto due pratiche ho fatto due tome si chiamano due cerimonie di ayahuasca nella prima è stata molto bella perché c'è stato ho visto proprio sonia che lei si è un po come se avessi avuto c'era quest'icona c'era quest'icona come se fosse sonia iconizzata non c'era il sottotitolo però come se ci fosse e si chiamava angelo mite no e aveva un'espressione un po più angelica di adesso a dire il vero no però comunque visione era quella che aveva due compiti quello di farmi evolvere nella mia ultima parte di vita no portarmi in evoluzione accompagnarmi e l'altra è quella di far nascere sua sorella gemella che non voleva incarnarsi questo era questo il sottotitolo era questo no ed è stato molto affascinante molto bella dire il vero quando poi ho saputo che sua sorella era nata col cordone è nata col cordone in bellica ombelicale attorno al collo che nella fisognomica è tipico di chi non vuol nascere per esempio no sono rimasto in sasso per questa cosa qui no e insieme a altre intuizioni che mi sono arrivate in quel momento lì una percezione proprio visitazioni alternative multidimensionali nella seconda cerimonia non è successo un granché a dire il vero e penso che fosse poco buona l'ayahuasca per quanto riguarda il fatto che cercano di farla passare come una droga quando in realtà invece non è una droga come la si intende è sicuramente per questa ragione l'hanno fatta anche con la canapa anche se però il fatto di usare l'ayahuasca secondo tantissimi personaggi tra cui castaneda ecco non mi veniva per cui castaneda e non è auspicabile usare l'ayahuasca castaneda parla dell'ayahuasca come di una porta che tu potresti sfondare con l'ayahuasca quando in realtà potresti aprire in tantissime altre maniere però io ho avuto un'esperienza quindi una positiva una neutra diciamo negativa non posso dirlo però un'altra riguardo a questa cosa che dicevi alessandra gismondi ti chiede proprio cosa ne pensi della cannabis la cannabis allora la cannabis se non è fumata io non fumo cannabis se la fumassi ve lo direi senza problemi proprio no a parte non fumo ecco però nemmeno non sono attratto dalla cannabis sono più attratto dal vino per questo no o dalla birra e penso che sia sia terapeutica veramente sotto certi aspetti e sotto certe dosi poi è sempre la misura che fa l'aldeleno no sempre la dose è però non fumata fumata perché fumata è particolarmente deleteria perché considerate che veniva calcolato che una canna media praticamente corrisponde a 10 sigarette perché la parte gommosa della scisce poi alla fine o della marijuana poi alla fine si stabilizza nei polmoni io conosco persone che fumano tantissimo e sono fuori di testa quindi penso che quello che vi ho appena detto allora paola fa una considerazione dice caro luca mi trovo proprio nella condizione di cercare la mia missione ora però sono costretta a rientrare dopo un anno di sospensione a fare un lavoro che non voglio più fare lavoro in ospedale ciao paola tesoro allora chiaramente lungi da me dire e fare dirti quello che devi fare nella tua vita per chi lo sai te no io ti dico questa cosa io credo che tutte le persone che sono sospese in realtà stavano facendo un lavoro che non era il loro questo te lo dico francamente la maggior parte per quello che ho visto la maggior parte delle persone così e penso anche per te sia così il passaggio che non dobbiamo fare per sganciarsi da quello che non vogliamo fare perché c'è l'illusione del lavoro sicuro che è la più grande gabbia che possa esistere è l'illusione della pensione che ci fa vivere una vita di merda alla fine no quindi quando la persona si svincola da queste cose ma non perché diventa stoica e fa il passo perché sente un monito dall'interno bene a un certo punto c'è qualcosa che ti porta a pensare ti porta a pensare se io voglio fare questa cosa qui e se dovessi morire non importa però voglio farla ecco quando tu ti muovi con questo genere di energia le cose ti vanno da dio ecco quando dice siete i tubanti nel passaggio in cui abbiamo una tra virgolette un reddito un'entrata sicura che ci garantisce un certo un certo andamento quando poi facciamo il passaggio deve essere ben ponderato e ben strutturato secondo me no però non è stato così per me ti dirò questo consiglio della posizione in cui mi trovo per quanto mi riguarda io ho detto ok basta non voglio più fare quel lavoro sapete no guadagniamo tanti soldi che c'è un lavoro drammatico è un lavoro criminale a dire il vero poi ho fatto il passaggio no e l'ho fatto senza sostentamenti però avevo questa cosa del migliore avevo questa frase no che mi son detto che se riesco bene altrimenti vado a fare il barbone che sarebbe stata la mia morte sociale se volete no però anzi guardavo con ammirazione il fatto di fare il barbone quindi non lo temevo perché quando tu non temi quella che potrebbe essere la tua condizione auspicabile no ipotizzabile non ti tocca ecco questa è una cosa molto importante da comprendere quindi io ho fatto contrariamente a quello che ti suggerisco tu fai quello che saranno poi le tue risorse ma anche le tue possibilità per poterlo fare però siamo qui adesso per vivere la nostra vita non per stare in strutture per darsi in affitto in strutture che poi non corrispondano a quello che la nostra anima richiederebbe non so se ti ho risposto paolo corrado ancora corrado ancora dice spesso scambiamo la nostra per la nostra missione ciò che desideriamo fare in realtà è l'universo che si manifesta tramite noi occorre solo permettere che questo avvenga a rendersi mollare non giudicarsi ecco guarda questo non c'è da dire nulla corrado perché ha detto proprio qualcosa di secondo me per particolarmente equilibrato e condivisibile quindi bravo corrado prego poi c'è riccardo corongio che dice il denaro è una forma di energia non sempre negativa dipende sempre dal valore che gli diamo noi luca sei un animo nobile e sensibile un abbraccio che carino riccardo ciao grazie c'è anche il mio fidanzato frank campese è un fidanzato precisiamo insomma siamo siamo incurabilmente non inculabilmente incurabilmente insomma altero sessuali però è una persona che io adoro frank che cosa dice frank allora luca al lavoro nel mio canale youtube ogni giorno e continuo a immaginarmi già realizzato stanno succedendo cose che mi confermano che i sogni si avverano solo se noi lo vogliamo davvero ti amo è vero ti avevo detto hai fidanzato ricordiamo che frank campese ha un canale di scambio di coppie no scherzo scherzo un canale di musica ve lo immagino mi sta ridendo adesso un canale di musica ed è molto bravo grande frank prego allora poi abbiamo silvia eccolo eccolo aspetta aspetta che se la ride allora silvia la paura è paura di morire se prendi coscienza che sei immortale qui solo per imparare passerà la paura leggete molte vite molti maestri si bella sì sì bella 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 molte vite monti maestri molto bella sì sì beh sì anche qui c'è solo da da dirti grazie basta non c'è raggiungere nient'altro grazie siamo un'ora e dieci un'ora e otto sei facciamo anche quattro cinque domande certo allora margherita damiani dice luca segue il vangelo di gesù e penso che tu si tu sei un suo figlio amato non avere paura di riconoscerlo sì allora guarda e questo grazie margherita in una considerazione altissima di me l'inganno delle persone a cui non vorrei cedere no e quando una persona inizia a sentirsi speciale no per questa ragione qui tu volete una cosa meravigliosa ecco se usciressi a questo genere di percezione inizierei a darmi un sacco di aree e quando tu inizi a darti le aree pisoli da un sistema sistema energetico quindi per me importante invece non pensare così è importante sentirsi come la mia funzionalità non è determinata dal fatto che ho un prestigio all'interno di un sistema la mia funzionalità è che ho una grande serietà nei confronti di me stesso questo mi consente l'evoluzione matrix ti dice devi mettere risalto il ruolo che occupi perché questo tipo ti procura un posticino al sole la vita l'essenza ti dice si molto serio con te stesso prenditi sul serio perché quello che sta facendo veramente molto importante quindi grazie margherita proprio finisco essere un essere umano normale cosa che sono prego maria oliviero dice luca luca nani ha più volte spiegato l'importanza di non andare a votare il 25 settembre un abbraccio a luca un abbraccio a tutti voi sì sì maria grazie io l'ho spiegato in maniera funzionale nel senso io non ho nulla contro chi è chi chi prende un partito considerando un po quella che è è un po come se una persona no se una verginella volesse andare in un bordello no alla fine poi ne riesce puttana come tutte le altre perché ne viene condizionata quindi anche se tu sei una persona meravigliosa stupenda io ugo rossi i ugo rossi ha una stima pazzesca però alla fine si è procurato se ha soltanto subito denunce penale a non finire a restricidare i casini e risalto non ha realizzato nulla di importante ma al grado la sua grande coerenza ma al grado la sua grande serietà perché non è con la politica che risolvi le cose quando si parla di dimensioni di fisica quantistica vedete loro possono fare quello che gli pare se una persona è in una condizione di non contatto con quel mondo non ti possono vedere né prendere questa è una cosa veramente molto importante da capire profondamente il fatto di pensare che l'unica possibilità che abbiamo è quella di inserirsi in un contesto politico ossia come elettore sia come rappresentante di partito è ovviamente un inganno di matrix questa struttura esiste perché ci sono delle persone che li credono chi sono quelli che li credono quelli che vanno a dare l'aderenza non a quel partito all'altro al sistema elezioni se il 60 70 per cento delle persone non va a votare loro saprebbero come ha spiegato malanga che la meloni sarà quella designata a vincere no la meloni saprà che è rappresentata la 3.000 persone ok se la meloni sa che è rappresentata la 3.000 persone il suo carisma la sua strapportenza il suo potere può andrà anche a governare però lei sa che è un fantoccio è spiattellato in faccia altrettutto verranno richiamati da chi li ha messi lì che sono poteri massonici e li diranno guardate non siete più credibili abbiamo messo giovanotti che era diventata una persona con certi principi in certe attitudini adesso è un cocainomane abbiamo stanno perdendo copia adesso a sinistra voi dovreste ispirare convincere far credere illudere le persone invece non siete riusciti perché tutti abbiamo visto che tutti voi siete delle persone completamente completamente corrotte che non hanno più conquistato la fantasia delle persone perché quello che avrebbero poi cercato di colpire la fantasia delle persone maria ti dice che sei un essere molto sensibile e che sente le sue emozioni intensamente lui è bello io che cari bello bala non lo diceva la mia nonna e tu in questo momento siete in due grazie grazie davvero ma guarda sensibile sì però per chi mi ha visto incazzato incazzato sul serio è dal vivo no non diresti così di questo quindi io penso di essere molto vivido a dire il vero quindi finire più come vivido perché una persona sensibile no vedo un'ingiustizia qualcosa magari non si dovrebbe fare così vai a trattare no io invece salta la giugolare quindi sono questa caratteristica quindi sono un po così allora rass 76 buongiorno raga domanda strana ma il celestino italiano il nostro papa e santo del 1300 che fu l'unico assieme a ratzinger ad abdicare c'entra qualcosa con la profezia di celestino secondo me no perché questa profezia in realtà è stata traslitterata male tradotta e traslitterata male questa parola non è la profezia di celestino ma la profezia celestiale infatti l'ho intitolata questa rubrica profezia celestiale quindi credo che sia poi sai quello che mi hanno detto persone che ne capiscono della profezia di celestino e poi magari anch'io sto dicendo una boiata però quello che so è questo che in realtà è stata soltanto tradotta male la sorgente sanremo ecco la la distruzione della scoperta delle missioni proprie comincia dal proprio comincia dalla scuola dove ci fanno mettere i loro vestiti previsti per i futuri schiavi e consumatori dove non c'è spazio per la creatività dall'alto della sensibilità di dana perché lei dana e anche qui dico che non c'è da aggiungere nulla è proprio così non solo ti fanno mettere i loro vestiti ma ti fanno vedere anche i modelli che tu devi seguire il leader l'autorità nella persona incravattata che spesso dal preside che poi preside viene scelto come il più ruffiano non c'è un professore ruffiano vero no originale si fa fare il preside perché non aumenta di stipendio di niente sono persone di prestigio quindi a diciamo le caratteristiche del preside solo di avere sono di avere una vita vuota e anche di essere particolarmente addomesticabile diciamo nella stragrande maggioranza dei casi al van ciao luca è un periodo che incontro spesso le mantide religiose mai successo come se ci fosse qualcuno che mi vuole dire qualcosa non posso saperlo così come non lo sai tu proprio ascolta questa cosa quando hai queste intuizioni non dirla a nessuno andai a questi contatti e non dirla a nessuno goditi fatti il viaggio terrestre da solo perché quando lo dice a qualcuno questa informazione la metti fuori e la mette alla mercè dei giudizi considerazioni eccetera interazioni del messaggio è per te quindi te lo tieni te e vivi la tua vita in segretezza fare silenzio sulle proprie cose è veramente molto importante mi state sentendo perché sta piovendo un casino nel camper si sente bene sente un po la pioggia non lo so perché sta diluviando anche qui quindi non so dire se è quella mia ok ok tratto vi faccio vedere c'ho un tetto meraviglioso e che bello questo è il tetto del mio camper aspetta da scollegge eccolo qua e da qui vedo tutta la pioggia che cade così faccio vedere anche sonia la persona che bella che si faccio vedere raggiù che sta segregata nella 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 stanza stanza da letto stanza da letto insomma lo so dove si dorme si stanca ai là no no possiamo andare avanti allora francesca paola chiede cosa ne pensi di sceusa no non lo conosco bene sono entrato nel gruppo così perché mi avevano invitato o mi ci hanno messo non so non ci sono capitato non mi ricordo quando ho visto un po l'andazzo ne sono anche uscito non conosco bene questa persona non mi piace il fatto che voglia mettere tutte le persone insieme quando una persona mette tutte le persone insieme commette due illeciti il primo è quello di mettersi a capo di queste persone il secondo il fatto di ignorare che una persona dentro un gruppo non conta più nulla allora brenda dice luca ti prego conosci scuole parentali online o in presenza a roma o vicino roma ambito ai castelli romani scuole medie aiuto addirittura guarda brenda no conosco solo milano e non conosco niente di roma se qualcuno poi potrebbe fare una posto per accogliere delle informazioni per riguardo a questo però francamente ho tantissimi fronti aperti se mi metto a fare anche questa cosa diventa complicato noi siamo in fase di grande ristrutturazione perché prevista non è prevista un'espansione dei nostri provider è enorme è prevista un'espansione enorme perché tutte quelle persone che si sono direzionate in altri canali ispirate da altre persone a settembre ci sono le elezioni a ottobre saranno tutte immortalmente deluse torneranno un po a casa diciamo quindi ci stiamo organizzando per accogliere potuto quel flusso allora la torre fel luca può essere che alcune zone abbiano deviato i corsi dei fiumi si hanno hanno chiuso l'invasi dell'enel soprattutto quelli dell'enel e hanno anche si hanno fatto anche delle deviazioni ve l'ho detto se voi andate a vedere i fiumi adesso no anche perché un giorno prima era piovuto tantissimo qui giorno dopo c'era il sole siamo andati siamo passati in un coso in un ponte sotto c'era un fiume in secca come possiede il piovuto ok no no fanno queste cose le fanno le fanno però è un po come nascondere la scoscizza sotto il tappeto e poi dopo si vede allora alessandra dice ho avuto sempre la sensazione che mi ci hanno buttato in questo mondo alla mia nascita era uscita fuori con la testa poi sono rientrata e mi hanno tirato fuori molti punti per mia madre è allora la sensazione di non essere proprio se tu vai a trovare un tuo parente un tuo amico in carcere è ovvio che tu non ti senta del carcere però tu ci vai per dare sollievo a questa persona ecco quindi tu non dovresti essere nel mondo dovresti essere nel mondo scusami ma non dovresti essere del mondo ecco questa è una cosa molto importante quindi quando le persone si sentono poi in questo mondo è perché si sono troppo identificate tu non sei questo mondo tu sei la tua eternità che in questo momento è in questo in questa esperienza corporea e in questo mondo mondo bello per quanto sotto certi aspetti orribile con persone meravigliose e anche persone orribili pensate a brunetta no prego allora ma finisce ti chiede secondo me l'unione serve a condividere non ad avere un appartenenza è sbagliato riguardo allora l'unione con chi è con gli altri non ho capito con se stessi perché anche l'unione con se stessi credo che facessi riferimento al discorso che hai fatto prima quando parlavi di ceusa e del fatto che vuole riunire tutti insieme credo si riprisse a quello ah sì 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 però questo è un prodotto della matrix il fatto di riunire le risorse le persone no perché quando tu le unisci fondamentalmente rimetti rimetti in uno stato in cui non sono più autonome e e francamente non sono nemmeno più in grado di poter di poter avere un potere personale in termini di gestione della propria vita che invece avrebbero nel caso in cui fossero da soli ancora nella mia vita vi dico io non appartengo a nessun gruppo e nemmeno voglio che le persone partecipino voglio costruire gruppi ma per quanto riguarda anche l'attività di zion ci sono delle linee ovviamente devono essere osservate no eh per quanto riguarda la nostra attività però la il mio desiderio importante che le persone manifestino se stesse ne ho parlato prima di in briefing e con il area prima di iniziare la nostra live no che deve assolutamente essere se stesse questa è una cosa che dico a tutti quindi quando sei in gruppo e si osservano poi dei dettami del gruppo si perde la nostra autonomia io che non sono dentro gruppi posso recitere tantissime cose della mia vita cosa che non potrei fare se fossi in un gruppo allora michele dice buongiorno a tutti nel libro di don joan e lo dice a don juan e lo dice pure castaneda che l'universo sta giocando la nostra vita loro si nutrono con la nostra energia negativa dovete fare attenzione chi è e poi in fine non non ha finito il il messaggio quindi non non so cosa oddio Luca non so se sono io o è Luca che si è affermato mi sa che è Luca perché qui sta avvenendo veramente il diluvio e anche un vento allucinante ecco ok perfetto non so cosa è successo credo che sia Luca perché non lo vedo più datemi un feedback Luca bloccato ok perfetto grazie vediamo se ritorna non so dalle vostre parti ma qui sta avvenendo una tempesta veramente è tutto buio e c'è un vento pazzesco credo anche dov'è Luca perché non lo vedo quindi vediamo un attimo provo a mandargli un messaggio per vedere se riesce a ricollegarsi sì sì scusate ho scritto a Luca per vedere un attimino se riesce a ricollegarsi e se no vediamo un attimo perché credo che anche dov'è lui ci sia una specie di tempesta e sicuramente il camper magari non riesce a prendere non riesce a prendere bene ditemi com'è dalle vostre parti almeno vediamo un attimino se Luca riesce a ricollegarsi o se almeno mi risponde beh Giuseppina bene da te 19 gradi no qui veramente mette paura veramente non vorrei essere fuori perché è veramente spaventoso ve lo farei vedere ma non si vede nulla perché è buio sembra notte è veramente assurdo o non piove o piove troppo anche Giovanna ci dice anche da me sta arrivando una tempesta non so dove dove abitate voi io abito a Pisa in Toscana e qui veramente vabbè di solito i temporali estivi passano velocemente allora vediamo se Luca mi risponde e mi dice che cosa fare perché vedo che si collega ma non vede i miei messaggi sì Luca è in Liguria sì 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 vabbè mi intrattengo se Luca mi facesse sapere che cosa fare lo farei perché non so se posso chiudere la diretta o aspettare che si che si ricolleghi e per il momento la mia connessione incredibilmente regge e qui mi dicono il luogo vicino Firenze è buio zona riccione nuvoloso ma non piove dai facciamo questo meteo in diretta vi dite che com'è il tempo dalle vostre parti mentre aspettiamo che che Luca ritorni se ce la fa ritornare se no chiudo la diretta e scusate per questo imprevisto ma purtroppo credo che nel posto dove è Luca la connessione non ci sia con questo tempo infatti mi dicono Maria Cecilia mi dice di Liguria anche sull'Appennino Parmenze grazie a te Lisa grazie davvero grazie per aver seguito Rimini ancora asciutta bene tempesta anche nello spezzino quindi credo che anche dove è Luca ci sia ci sia una tempesta Luca non non mi risponde e quindi aspettiamo cinque minuti dopodiché se Luca non non si non si ricollega chiudo tanto comunque la diretta era finita cercavamo di rispondere a quelle che erano le domande per rispondere un pochino a tutti perché l'argomento che ha trattato stamattina Luca è un argomento che secondo me sta molto a cuore quello sulla vocazione e sulle missioni come ho detto prima a Luca e anche io mi occupo molto di vocazione e missione perché credo che una persona quando segue la propria missione e la propria vocazione ha un'energia e un entusiasmo che è veramente contagioso e veramente può vedere un cambiamento nella propria vita le cose iniziano 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 ad andare bene quindi la paura iniziale poi si trasforma in una in una maggiore sicurezza quindi ecco cercate se possibile di seguire sempre quella che è la vostra vocazione allora vediamo un pochino viva la pioggia sì indubbiamente la pioggia ci ci voleva assolutamente ravenna nuvoloso sembra novembre vi posso assicurare che qui sembra sì non lo so notte fonda notte fonda grazie a te la torre Eiffel per il ringraziamento davvero grazie grazie a tutti per esserci sempre per seguirci perché rendete il nostro eh cioè rendete diciamo il nostro ci fate impegnare sempre di più per per essere sempre più bravi poi Luca è il numero uno quindi non devo dire niente per per lui allora guardo l'ultima volta se Luca mi ha risposto purtroppo Luca non mi risponde evidentemente non riesce proprio a ricollegarsi quindi io ehm direi che tra l'altro mi aveva detto di ehm condividere una cosa che però non vedo più perché molto probabilmente essendo sparito lui è sparita anche l'altra cosa la condivideremo eventualmente la la prossima volta io vi ringrazio per tutti i feedback su sulla sulla sul tempo sul meteo che mi state dando e J883 magari vocazione ripartire ma come? Beh innanzitutto secondo me capendo qual è la nostra vocazione eh interrogarsi su come dice Luca in solitudine per cercare di capire qual è la propria vocazione ehm laddove non non ci si riesca a farsi anche aiutare perché è normale che ci siano magari dei momenti in cui uno è un pochino più in difficoltà nel capire quello che vorrebbe realizzare della propria della propria vita eh quindi innanzitutto capendo qual è la propria vocazione e poi un passetto alla volta per cercare di realizzarla questa vocazione ehm nel coaching quando ci si prefigge un obiettivo lo si visualizza come una sorta di persona che scala una montagna se voi dovete scalare una montagna eh vi immaginate di farlo un passo alla volta non tutto insieme perché se pensate oddio devo arrivare in cima io faccio trekking e quindi so cosa vuol dire arrivare in cima alle montagne se io dovessi pensare oddio devo arrivare in cima a quella montagne tutto insieme eh mi sentirei male invece eh un passo alla volta piano piano in cima alle montagne e ci arriviamo quindi lo so che detto così sembra semplicistico e fin troppo facile non lo è sicuramente però impegnandoci e dandoci degli obiettivi di di mezzo cioè l'obiettivo grande e poi tanti piccoli obiettivi quindi si può arrivare a raggiungere quella che è la propria il proprio obiettivo che può essere quello di trovare la propria vocazione e realizzarla allora qui inizia a piovere adesso eh concetta dice Luca ha fatto apposta a lasciarti sola sei fenomenale grazie ragazzi troppo gentili veramente sto proprio andando a braccio perché non me lo aspettavo non era programmata giuro eh se no gli avrei detto a Luca no dai ti prego però va bene dai ehm cerco di ho cercato di intrattenervi così da aspettare che ehm eh Luca eventualmente si ricollegasse però essendo passato mi sa già un buon quarto d'ora direi che possiamo ehm possiamo possiamo chiudere e possiamo chiudere e quindi ehm perché Luca assolutamente non mi risponde la tempesta assolutamente non accenna a passare almeno qui a Pisa quindi io direi che ehm io direi che possiamo possiamo tranquillamente salutarci qui e possiamo salutarci qui e ehm possiamo salutarci qui e ehm tanto domani Luca ha eh quella che è l'ottava illuminazione quindi e magari domani vi spiegherà che cosa è successo oggi credo che magari riuscirò a contattarlo e a capire anch'io cos'è successo ma penso di avere intuito che data la giornata è caduta la connessione internet e ehm io vi saluto veramente tutti vi ringrazio per essere rimasti con me e per aver aspettato con me che Luca provasse a rientrare eh vi auguro una buonissima giornata e vi abbraccio perché siete fantastici siete gentili carini eh mi incoraggiate tantissimo vi voglio bene davvero un bacio e buonissima giornata a tutti un bacio e buonissima giornata a tutti Grazie a tutti.